Vedo questo tipo di strumento, videocamera e altro, come la base della cultura elettrica, elettronica, digitale, sono tutte le stesse cose, come la penna è stata per la cultura della carta della scrittura, la penna era il sistema meno costoso per creare individualmente un contenuto e durante mille anni ha servito e di più ha servito a creare identità, individualità e altre cose. Che succede oggi? Succede che abbiamo a disposizione, i ragazzi della scuola hanno a disposizione il strumento gratuitamente il più costoso della storia della comunicazione, hanno nella tasca la concentrazione di tutte le tecnologie di comunicazione e di parole che esistono e questo dà una dimensione completamente nuova alla creatività. Oggi la nuova letteratura è l'app, l'applicazione, è il YouTube, YouTube è la televisione che torna a forma d'arte e non abbiamo ancora abbastanza capito questo. Io direi che per parlare a una scuola come l'abbiamo fatto oggi era una cosa importante per far capire a loro che hanno un potere che non tappevano di avere e questa è la dimensione elettronica del nostro essere e dobbiamo dire anche che siamo stati in tre grandi momenti verso il linguaggio, è sempre una cosa del linguaggio. Quando il linguaggio è portato dal corpo, nella cultura orale, è sempre espresso, tu non hai dentro di te un linguaggio molto complesso, sei capace di fare poemi, sei capace di fare grandi canzoni della storia della cultura tribale, tutto questo si capisce, però è sempre un meritaggio comune, è sempre espresso, invece quando tu impari di scrivere tu prendi possessione del linguaggio, prendendo possessione del linguaggio prendi possessione del tuo proprio destino, tu lo scrivi il tuo destino nelle prime, come dire, task che tu devi fare nella scuola, tu impari di controllare il linguaggio, adesso l'elettricità venendo via un schermo fa che tu scambi con il schermo il potere sul linguaggio e infatti il potere viene molto di più della rete che della tua mente e tu stai esportando le tue strategie cognitive direttamente sul schermo e sulla rete, questo è un scambio tra personalizzazione di se stesso e esportazione di se stesso, adesso pubblicare il suo profilo, creare il suo proprio avatar, il suo profilo su Facebook e literalmente curare molto di più la tua immagine pubblica che la tua immagine personale interna, questo è importante, io dico sempre che il nostro destino è di tornare avatar, literalmente, e per questo sono studiando adesso che sono le conseguenze di questa dimensione dell'estensione del corpo globalmente via la rete, l'estensione del sistema nervoso che porta come conseguenze certamente sociali e psicologiche ma anche politiche, anche le rivelazioni di Edward Snowden creano un'ansia adesso sulla quantità di informazione che circola su di noi, il big data, noi siamo big data, che fanno con questo, io lo chiamo l'inconscio digitale, tutto che si sa su di te che tu non sai e che ha così importanza nella tua vita e le tue scelte e il tuo modo di essere che è quello di papà e mamà, capisci, Freud, ciao, adesso inconscio digitale, capisci, è un po' questo il problema.